In dentro, è il mare, va bene, però i pesci sono molto più avanti, quindi sottofondo, vediamo che ci vediamo sottofondo, sottomarino, no sottomarino, i pesci sono più, ah qui? Qui sono fioti, è sotto il mare, coralli, qui per esempio di sopraelevazione, questi rossi e anche qualche bianco, ma belli però, fondali marini, beh, vero, vedi che le spennellate di rosso sono in sopra, come si può dire, sopra, in primo piano, sì, ecco, brava, grazie, sì, le spennellate di rosso. E poi più lo guardi e più si abitua l'occhio a vederlo alle varie, sì, adesso sta sprofondando ancora di più, poco fa ne vedevo di meno il verde dell'acqua, del profondo del mare, adesso la vedo proprio, è sempre più profonda, e c'è il bianco anche, che è tra il rosso e quel verde che dicevi tu, vedi che è messo lì nel mezzo, anche sopra, vedi le spennellate come, c'è barbi, guarda là barbi come è messo, e c'è un altro qua, guarda, c'è un altro là, e forse c'è un altro, è nascosto, e non lo vediamo, o sbaglio, e non riesco a vederlo, uno, due, tre, e l'altro, oddio, vediamo se riesco a scoprirlo. Dietro il pesce. Dietro il pesce? Quale? Aspetta.